Perché tutto questo macello? Stiamo presentando QuintoPotere.it, il nostro nuovo giornale è stato tutto questo macello. Bellissimo, bellissimo. E chi è la Ferragni? E chi è la Ferragni? Saluta Antonio! Chiara! Ah no, scusa, scusa. Però è vero, sembrava, sì è vero, sembrava la Ferragni. Tino, la situazione è a tratti raccapricciante, eccola. Tu sei Antonio. Tu sei bello, eh. Ragazzi, sarà un inizio col botto, sarà un inizio col botto. Lo sono passato per puro caso, per una semplice passeggiata. Ha visto me? Ho visto lì, dottore, allora mi sono fermato. Guarda Tino, guarda Tino, mi sto emozionando. Vuoi fare la foto? Sì. Però non mi chiamare dottore, ti prego. Vabbè, lo so. Vai, fai la foto. E là che le deve fare, Tino, la foto? Devi fare tu, è il selfie questo, è il selfie. Ci sono passi. Tino, è emozionato Antonio. Eh, lo so, non capisco niente. Ci sono fior di colleghi, pure, che sono invidiosi. Ah, sì? Dottore, poi la pubblico su Instagram e la taggo. E mi deve taggare. E soprattutto dobbiamo seguire chi? Quinto potere. Quinto potere, ormai lo sanno già tutti, Tino. Tutti preoccupati. Lo sanno già tutti. Intanto loro aspettano la Ferragni e fagliela aspettare la Ferragni. Spaccheremo con questo quinto potere. Vai. Lo sanno tutti. Tutti, Tino, tutti. Tu non hai i capelli biondi, Antonio. E vedi? Però sai chi sono? Eh certo, mi vedo tutti i tuoi video io. E come si chiama il nuovo giornale? Non lo so, non ho bisogno. Quinto potere.it. Come si chiama? Quinto potere.it. E quindi guardate tutti? Quinto potere.it. Vedi? Bisogna solo imbeccarle. Bisogna solo iscrivetevi sui nuovi canali di Quinto Potere.it. E vedrete ancora i video di Antonio. E Tino. E Tino. Perché c'entro io, scusate? Eh, vai. Con la macchina fotografica non si faceva dal 1923. Visto che lei è molto più importante di Chiara Ferragni, è conosciuto per tutta Bari e il mondo, diciamo. Ci concede una foto. Bari e il mondo. Ci concede una grande foto. Aspetta che sento il mio manager. Sì, dimmi. Allora, ci sono Gianni e Alessandro che vengono da? Bari, Bari. Bari, Bari. Pensavo che arrivassero da, vabbè, da Bari. Vogliono fare una foto. Che fate voi nella vita? Studente. Di che? Istituto Tecnico Le Nuci. Le Nuci. Le Nuci, Le Nuci. E tu, compagni di classe. Compagni di classe. C'è brutta... Le Nuci ti fa per te. Salutiamo la quarta bisia. Vabbè, già fatti, ti ho fatto fare i saluti. Ha detto che possiamo fare la foto. Dai, facciamo il selfie. Vai. Vada. E chi lo fa il selfie? Io lo devo fare. Vada, Ale, vai. Assurdo. Facciamo il selfie, nessuno prendeva il cellulare. Vai, fai tu, Gio. Cioè, fai tu con il cellulare. Vai, vai. Siete troppo alti, la nuova generazione è troppo alta, Tino. Una foto. Una foto, un selfie. Come si chiama il nuovo giornale? Quinto Potere. Ridillo ad alta voce, ti prego. Quinto Potere. Quinto Potere. E quindi seguite tutti? Quinto Potere. Quinto Potere. Quinto Potere. Lo sanno tutti già. Due, due selfie. Vai, vai. Ve lo meritate. Quinto Potere, vai col selfie. Siamo la parte parallela di questa serata. Vai. C'è una maffa di Chiara Ferrani. C'è una maffa di Dillo, Dillo. Che ce ne dobbiamo fare di Chiara Ferrani, c'è Antonio Loconte qua. Ma che veramente. Ma che veramente. Le testate giornalistiche. Quinto Potere.it. Vai, vai, vai. Mi raccomando. C'è pure un timer, dal? No, pure il timer no, dai. Guarda, guarda, Tino, guarda, guarda. Che ne dobbiamo fare della Ferragni, è vero o non è vero? Sì, ecco se ce le facciamo. Che ce le facciamo. Niente. Niente. Quinto Potere.it, mi raccomando. Come si chiama il nuovo giornale? Quarto Potere. No, no. Come si chiama il nuovo giornale? Dimmelo tu. Quinto Potere. Come si chiama? Ah, Quinto Potere. Quindi seguite tutti? Quinto Potere. Punto. It. Ma anche se fai conti, rendi rizzo su punto.it. Vai. Oh sì, ci piace. Vai, vai. Adesso diventa un meme. Devi, Tino, la rossa. Aspetta perché qua devo chiamare il mio agente. Aspetta, aspetta un attimo. Sì, pronto? No, non hanno le ciabatte con l'animale sopra, no? No, non ancora. Perisoma? Questo non è dato sopra. No, non te lo possono dire, giustamente. Anche se lo avessero. Il trucco della Ferragni? No. Allora lo possiamo fare. Facciamo, facciamo. Sei più importante di chiara. Lo vedi, lo vedi, lo vedi. Lo dillo. Sei più importante di chiara. Vai. Ma la foto non lo fa. Adesso la facciamo. Grazie. Dai, facciamo l'hashtag. Ce la maffa è della Ferragni? Questo è l'hashtag. Vai. Vai, tutti insieme. Insieme. Anche se rovini la media dell'altezza. No, no, no. Ce la maffa è della Ferragni, Tino? Dai. Mi devo fare che hai i capelli biondi? Che dici? Forchetti cucchiagli. Non lo so. La variante inglese io rappresento... Lui va cercando la televisione. Dove sta la telecamera c'è lui. Va cercando. Fammi un monologo sulla Ferragni. Guardi, questo è teatro. Questo vale un milione di euro. Perché la luna è sempre palida? Perché si fa le nottate. È bello questo. Questo è Canale 5 Primo Premio. Il problema non è vivere. È come si vive. Basta, basta. No, no, le ci abbattino. No, no. Ti concedo il selfie se mi dici come si chiama il nuovo giornale. Boh, io sono rimasta a Quotidiano Italia. No, no, no. Il nuovo giornale si chiama? Non si chiama, Lel. Non si chiama, Lel. Quintopotere.it. Come si chiama? Com'è che si chiama? Quintopotere.it. Ah, ok. Quintopotere.it. Vedi che lo sai. Accendi il cellulare, vai. Vamos. Vai, facciamo il selfie, dai. Oh, ci sarà un tiro. E fai vedere lei pure. Se tu lo metti dritto e non obliquo, viene meglio. Ma perché lo metti tu obliquo? Ahia, porca miseria. Eh, scusami, ma la Ferrani obliquo lo mette il selfie. Ma che ne so io? Ma per te il selfie. Ma c'è, mascherine tesi miss, ragazza.